Clamoroso verdetto nell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie B, il Bologna espugna il terreno del Pescara vincendo per 3 a 2, con le reti nel primo tempo di Buccal, Acquapresca e Casarini. Per gli Adriatici nella ripresa Salomon e Maniero su calcio di rigore. Nelle pomeriggio le altre gare Avellino-Spezia, Modena-Provercelli, Varese-Lanciano, Crotone-Carpi, Perugia-Catania, Entella-Brescia, Prosinone-Bari, Trapani-Cittadella e Livorno-Latina. Ricordiamo che Entella-Brescia è in programma domenica alle 18 e Livorno-Latina lunedì alle 20.30.